Al termine delle lunghe ore di interrogatori di Paola e Silvia Zani, le due sorelle di Temù e del fidanzato della Maggiore Mirto Milani di Roncola San Bernardo, tutti e tre in carcere da 24 settembre 2021 con l'accuso di aver ucciso Laura Ziliani l'8 maggio 2021, dai verbali degli interrogatori di maggio emerge una confessione piena dove il terzetto ha ammesso l'omicidio di Laura la sera tra il 7 e l'8 maggio 2021 di averne occultato il corpo nell'area golenale sinistra del fiume Olia Temù accanto alla pista ciclabile a poche decine di metri dalla vasca dell'Enel. Quando le sorelle Silvia e Paola hanno saputo leggendo gli atti di chiusura dell'indagine che Mirto aveva deciso di raccontare tutto anche loro hanno confessato. Secondo gli investigatori l'omicidio della Ziliani era stato orchestrato dai tre per mettere le mani sul cospicuo patrimonio della donna. Silvia invece ha dichiarato che erano disperati per i tentativi della madre di ucciderle sentendosi bloccata con tre figli di cui una disabile. La figlia maggiore di Laura Ziliani nella sua confessione racconta che la madre avrebbe in un'occasione messo della candeggina nel latte e in un'altra una sostanza caustica nel portasale. Prima della morte della madre i tre si sarebbero accorti che Laura li voleva intossicare con il cibo. Dai verbali emerge anche il primo tentativo di uccidere Laura ad aprile 2021 quando venne avvelenata con una sostanza versata nel tè che l'avrebbe estordita per ore. Emergerebbero chiari anche i particolari delicati severi e importanti su quanto accaduto nella notte tra il 7 e l'8 maggio nella casa di via Nicoli a Temù nel pieno centro storico quando Laura venne estordita, soffocata e quindi uccise da Silvia, Paola e Mirto che evidentemente confidavano nel fatto che il corpo non sarebbe stato trovato per molto tempo o addirittura mai più e non avevano mai pensato alla possibilità di essere scoperti. Prima di attuare il piano avevano anche deciso che alla fine di tutto non ne avrebbero mai più parlato. Paola Zani ha invece raccontato ai giudici di aver solo tenuto ferma la madre ma di non averle fatto personalmente del male. Il processo ora continua fino alla totale chiarezza su ogni particolare della terribile vicenda per arrivare alla sentenza finale.